Non è passato nemmeno un giorno dal rifacimento del manto stradale di Viale Siena che l'arteria è tornata a trasformarsi in un fiume in piena. Evidentemente l'intervento non è stato effettuato con criterio. Anziché sistemare la rottura alla rete idrica prima e asfaltare la strada dopo, è stato saltato un passaggio. Oppure l'intervento di risoluzione del problema non è stato effettuato a regola d'arte. In tutti i casi il risultato è sotto gli occhi increduli di tutti. Negli ultimi mesi, se non da anni, Viale Siena è stata interessata da numerose perdite idriche che in più punti ne hanno compromesso il manto stradale. Perdite su cui, dopo aver aspettato in vano giorni e giorni, Aica a volte è intervenuta in modo evidentemente non adeguato. Problemi che si ripresentano quindi poco dopo. Il comitato di quartiere Segnazza ieri aveva espresso la propria soddisfazione per la posa del nuovo asfalto, ritenendo tale intervento un importante segnale di attenzione verso la zona, ma la gioia è durata poco. Un caso emblematico tra i tanti simili presenti in città a causa di una rete idrica ormai usurata e fatiscente. Ad esempio, esattamente come in Viale Siena, anche lungo la Via Aldomoro, le perdite idriche continuano a far capolino dalla strada appena riasfaltata.